Per notare una visita specialistica o una prestazione di diagnostica strumentale è ora possibile senza andare fisicamente al CUP. Da oggi infatti le prenotazioni si possono fare dal proprio computer o anche dallo smartphone. Il servizio per il momento è attivo solo nelle zone di Massacarrara, Lucca, Viareggio, Livorno e Grosseto, a disposizione di 1.200.000 cittadini, un terzo di quelli che abitano in Toscana. L'estensione ai restanti 2.500.000 è previsto nei prossimi mesi. L'assessore regionale al diritto alla salute ha sottolineato che questo servizio semplice, veloce e sicuro è un altro passo sulla via della semplificazione e per migliorare le liste di attesa. Il nuovo servizio di prenotazione online sfrutta la piattaforma informatica del CUP unico regionale, il CUP 2.0, avviato nel 2016. Ogni volta che passiamo a sistemi elettronici ci liberiamo del tempo. Quindi siamo in casa o a qualsiasi ora anche della notte, perché il sistema è H24, possiamo prenotare la nostra prestazione. Questo vuol dire anche meno pressione sui nostri sportelli, quindi i nostri operatori avranno meno persone in coda, ma anche un netto miglioramento di tutti i dati che raccogliamo come Regione Toscana. Il sistema opera in tempo reale sul CUP centralizzato, riservando la prenotazione per 15 minuti, tempo in cui l'utente può decidere se confermare o scegliere un'altra data, un altro medico o un altro ospedale. Una volta confermata la prenotazione sarà generato un promemoria finale.